Allora, prima di iniziare vorrei, perché stamattina ho visto un po' i giornali e vorrei chiarire bene il concetto di ieri perché da qualcuno è stato un po' amplificato e forse travisato sulla domanda del perché Esbrook fuori dalla convocazione, fuori da quelli a referto, semplicemente la risposta è diritto della società a dare delle indicazioni perché si sta andando in una nuova direzione e questo fatto è assolutamente un diritto del club e noi cavalchiamo questa scelta nel senso che il compito dello staff è di far giocare la squadra al meglio possibile, far giocare i giocatori che vengono dati allo staff il meglio possibile e stiamo tutti lavorando nella stessa direzione, quindi sono state messe insieme alcune cose e alla fine ne è venuta fuori una frase o un modo di esprimersi un po' polemico che non era assolutamente e nessuno sta cercando degli alibi, anzi la prima cosa che abbiamo detto ieri che abbiamo pasticciato e non abbiamo ben giocato ma prendendoci le nostre responsabilità. Detto questo stiamo cercando di navigare tutti nella stessa direzione, stiamo cercando tutti di fare il meglio possibile per migliorare questa squadra e per renderla più forte, più pericolosa e possibilmente anche un po' più lunga nelle rotazioni ma non è semplice perché comunque il mercato non offre tantissimo e quello che ancora stiamo cercando è la ricerca dell'italiano ad andare a sostituire Marco Laganà che ci manca sempre, ci manca il cambio del playmaker e lo spot di italiano per avere una rotazione più completa però al mercato non offre tantissimo siamo ancora alla ricerca di trovare una soluzione. Detto questo la partita di domani è una partita vera, molto vera adesso il livello si alza perché siamo nella seconda fase della coppa a quale stiamo partecipando quindi ovviamente c'è stata una prima selezione, si vanno a incontrare squadre più complete quella di domani è una squadra estremamente completa, ha due ottimi americani nel ruolo di playmaker nel ruolo di numero 4 e poi ha una batteria di giocatori russi per la maggior parte che hanno avuto trascorsi nelle nazionali giovanili del loro paese, giocatori pericolosi, pericolosissimi tutti al tiro sia gli esterni che i lunghi e poi hanno un giocatore tedesco nel ruolo di 5 che è un ragazzo di 2,10 dell'88 con grandissime mani, con una capacità di avvicinamento importante, grande stoppatore, grande capacità di proteggere l'area e quindi una squadra completa, una squadra pericolosa, non lo so se è la più forte del ginone probabilmente questo poi lo vedremo partita dopo partita perché poi la coppa è sempre difficile da interpretare perché ormai in tutta Europa si è sempre più competitivi, in tutta Europa le squadre sono sempre più organizzate anche in questi giorni analizzando i nostri avversari di domani la prima impressione è che alla fine sono sempre tutti molto lunghi nelle rotazioni, hanno sempre tutte squadre molto complete di 10, 11, 12 giocatori e quindi staremo a vedere poi andando a vedere più da vicino anche le altre squadre del girone però sicuramente una partita vera, una partita da giocare con grande energia e con grande attenzione Sì adesso chiaramente l'obiettivo è di provare a vincere, dobbiamo anche capire a che livello siamo in questo momento perché la partita di Venezia ci ha dato delle risposte e la partita contro Cremona ce ne ha date delle altre e quindi dobbiamo capire quanto siamo pronti, è chiaro che vogliamo esserlo perché vogliamo provare a vincere vogliamo provare ad essere più competitivi possibili e per la Coppa e per il campionato e questa partita ci serve sicuramente anche per dare delle risposte a noi stessi in questo momento contro una squadra competitiva quindi ben venga, però l'obiettivo è vincere la partita adesso lo sviluppo dei giocatori è un filino come ho già detto messo da parte perché abbiamo dei giocatori più esperti come Walter Roger, abbiamo un giocatore più consistente come John John Johnson quindi sicuramente l'obiettivo è vincere ma con tutto il rispetto degli avversari e rispetto di quello che stiamo facendo abbiamo avuto qualche risposta un po' strana nella partita contro Cremona e vogliamo riprendere il giusto ritmo Sì sono grandi, sono grandi, hanno corpo in tutti i ruoli e poi hanno veramente tantissime rotazioni hanno tanti giocatori, cambiano spesso anche il quintetto, cambiano i minutaggi, hanno veramente una rotazione abbondante vediamo noi come riusciremo a ruotare domani, se riusciremo ad avere una rotazione in più quindi credo che dovremmo farlo perché comunque abbiamo giocato ieri e rigiochiamo domani e noi non possiamo giocare senza mettere energia o velocità nel nostro modo di affrontare la partita in fase offensiva